E' tornato il successo, vittoria importante per il Catania. Quanto è importante per la squadra e per il gruppo, per lo spogliatoio? Secondo me è molto importante perché stavamo trovando un periodo nero, perché secondo me giocavamo bene, però il risultato non era buono. Questa vittoria per noi è fondamentale, per la testa nostra, per cambiare tutto ciò che sta succedendo con noi. E' molto importante la prossima gara vincere e migliorare, secondo me. Ma per me questa gara era fondamentale. E' molto felice perché stavo dicendo che contro Foggia, un po' di infortuna, ha fatto un alto gol. Dopo la ultima gara ha preso il gol di calcio d'angolo. E questo momento è un momento di tutti quanti, ogni giocatore, dare un po' di più. migliorare, fare un po' di più per la squadra, perché Catania non può stare in Sarici, secondo me. E' una società grande, è una squadra con bello tifosi, una grande città. E non può stare così. Quindi per me oggi era fondamentale fare una buona gara e il principale è vincere la gara. E sto molto, molto felice per tutto. Il tuo compagno di reparto, Bergamelli, si è fatto male. Hai capito cosa si è fatto? Lui era male. Già stava con un problema, non so chi era, però già stava male. Hai giocato. Lui ha sempre giocato con dolore. Con dolore in ginocchi. Lui è una persona incredibile. Penso che non è un problema grave, ma vediamo domani lo che succede.